Benvenuti sull'Umminismo Informatico. Questa qua è una lezione che io dedico al tema di Java, JDBC. Allora, praticamente la mia intenzione in realtà sarebbe questa. Adesso faccio partire le slide. Vorrei fare una sorta di piccolo corso sul tema appunto di JDBC, cioè praticamente per spiegare, diciamo, come collegare Java con i database. Adesso poi non so precisamente quante lezioni verranno. Come minimo spiegherò come collegare Java con MySQL. Se poi, boh, un giorno riuscirò magari proverò anche con altri database. Però MySQL è sicuramente uno molto usato. E quindi questo corso in realtà, cioè queste lezioni saranno poche. Nel senso che qui tanto io ho intenzione di spiegare veramente l'essenziale, poi non è che c'è. Tanto da raccontarci. Poi vi renderete conto che se la cosa può sembrare complessa, non l'idea, in realtà non lo è. Cioè nel senso... però almeno appunto si scoprono. Questa lezione è chiaramente dedicata alla parte teorica, diciamo, di tutta questa cosa. Capire che cos'è sto JDBC da parte dietro. Perché un minimo di cose, parole da spendereci sopra, ovviamente ha un senso farlo. Ovviamente questo piccolo corso presuppone che le persone che lo seguono conoscono già Java. E io ho già fatto un corso di Java base, per cui, per esempio, potreste seguire quello. Sono 49 video. Cioè io incomincio a parlare di appunto che cos'è Java. Poi man mano spiego il linguaggio, le basi, ovviamente i condizionali, gli iteratori, eccetera, eccetera. Le classi, gli oggetti, i principi della programmazione degli oggetti. Poi altre cose più, diciamo, approfondite, tipo le interfacce, le mappe, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare dei veri propri progetti. E poi, per esempio, l'ultimo tutorial dedicato a come costruire in interfaccia grafica. Cioè, con interfaccia, quella non la GUI, ma quella a caratteri. Quella a caratteri, un gioco di guerra. Quindi, no, questo è prima o dal corso prima. Questo invece è un'altra cosa. E' appunto come collegare a Java con, appunto, il Database. Che poi è un corso che io metto qui e poi sarà seguito, ci saranno anche altri corsi su Java. Sicuramente sto già lavorando a un corso su Java Swing, le applicazioni desktop. Vabbè, incominciamo, va? Allora, che cos'è JBC? JDBC, cioè starebbe per Java Database Connectivity. E, vabbè, un API. Permette di collegare un'applicazione Java con un database. E che cos'è? Perché, appunto, nasce, diciamo, da questa esigenza, no? Come faccio? Perché quando io costruisco un'applicazione, per dire, io ho l'applicazione, no? Java normalmente si lavora su Eclipse, ma si può anche usare NetBean. Oppure Intellige, io so che Intellige è il pagamento. Comunque è uno dei migliori, in realtà. E lì si crea l'applicazione con tutto il codice e quella parte lì, no? Il Database è ovviamente una cosa separata, cioè non è dentro Eclipse, ovviamente. È una cosa separata. Quindi bisogna trovare un modo per collegare, diciamo, Java con il database. E cosa fai? Usi JDBC. JDBC, appunto, è un API. Che cos'è un API? Application Programming Interface. Ed è qualcosa che ti permette di far comunicare cose, diciamo, differenti, no? Per esempio, no? Se uno vuole far comunicare un'applicazione web con un'applicazione mobile, avrà bisogno di un API. Caso banale, soprattutto molto, in vera bella dire, contemporaneo. Comunque, cioè se uno vuole fare un sistema di autenticazione, del tipo che tu ti vuoi registrare, e poi ti inviano il messaggio del codice, e poi devi alzare sullo smartphone, e poi, cioè, bisogna riscrivere quel codice, eccetera, eccetera, ovviamente per far comunicare l'applicazione web col cellulare, sono gli API. Poi sono tutte cose già scritte in certi linguaggi. In questo caso JDBC è scritto in Java. E quindi, boh, sono tutte una scatola nera, come si dice. Non si sa cosa c'è dentro, nel senso, cioè, almeno, a meno che uno lo voglia andarselo a studiare. Però, normalmente, l'unica cosa di cui ci si preoccupa è che funzioni. Cioè, e quando si sbaglia a qualcosa, cioè, perché sbagli a scrivere il codice, non vai a cercare là dentro. Cosa sono i database, appunto? Perché io, in realtà, in questi corsi non ho mai parlato di database, a dire il vero. Sinceramente non è che abbia tutta questa intenzione di fare proprio un corso sul database. Però pensavo di dire quelle due cose che sono necessarie quando si presenta l'occasione. Questa, per esempio, potrebbe essere una delle prime. Appunto, come collegare Java con, appunto, il database. Poi la stessa cosa capita con PHP, capita con Python. Si può persino interrogare un database con JavaScript, però è un'altra cosa. Comunque, in Java si usa JDBC e vabbè. Cosa sono, appunto, questi database? I database sono collezioni di tabelle. Cioè, esistono principalmente due tipi di database. Quelli relazionali e quelli non relazionali. Allora, i relazionali ci sono una serie di tabelle che possono essere, diciamo, collegate tra di loro. E poi si usa un linguaggio che sarebbe SQL, che poi vedremo anche cos'è. E noi ci occuperemo dei database in realtà relazionali. Perché poi quelli non relazionali... Al momento non è che poi siano più di tanto usati. Comunque, esempi di database relazionali, tanto per chiarire. MySQL, MariaDB, BeaverDB, Oracle, Microsoft SQL Server, quella roba lì. Ce ne sono parecchi, molti della Oracle. Anche MySQL è sempre della Oracle, in realtà. I database non relazionali, invece, si basano sul concetto di... Non sul concetto di relazione, ma su quello di classe. E usano un linguaggio non SQL. Un esempio classico di database non relazionale, MongoDB. Come è fatta una tabella? Perché appunto ho detto... Ok, i database sono collezioni di tabelle. Quindi ci sono le tabelle. Cosa sono fatte le tabelle? La tabella contiene dei dati. Ha delle righe e delle colonne. Le colonne ci sono dei nomi, per esempio, che ne so. Id, nome, cognome, password, queste robe qua, no? Le righe sono delle tuple. La tupla è un insieme di... Non so come dire, di valori. Che poi corrispondono tutte a un id, cioè perché ci deve essere sempre una chiave primaria perché posso distinguere una riga dall'altra. Poi le tabelle possono essere collegate tra di loro nei database relazionali, di solito è così. A quel punto poi si fanno delle join, si fanno delle cose. E a quel punto ci vogliono delle chiavi secondarie. Perché, che ne so, supponiamo che io voglio collegare una tabella utenti con una tabella che contiene le immagini in profilo degli utenti, no? Beh, intanto, vabbè, dipende perché poi ci sono le relazioni, dipende, ci sono 1N, NN, quella roba di no, 1 molti. Voi capite che, per esempio, la relazione classica 1-1 è del tipo la capitale dell'Italia, cioè di un paese, è tale per cui c'è una sola capitale per ogni paese. Ogni paese ha una sola capitale, la capitale è per forza di un certo paese. E questo è semplice. Poi ci sono le relazioni che sono tipo 1 a N, cioè 1, diciamo, a molti. E, allora, ok, supponiamo che siamo in una scuola. Come dire, ci sono le classi, no? Ogni studente appartiene a una classe. Però uno studente non può appartenere a più classi. Ok, quindi questo è 1 a N. N a N, invece, diciamo, è il caso più semplice, forse, di una cosa del genere. Beh, pensate a YouTube, no? Una persona si iscrive a un canale, però, innanzitutto, può iscriversi anche ad altri canali. E poi, allo stesso tempo, il canale avrà più iscritti. Ok, e questo è solo il discorso. Poi adesso qui non l'ho messo nella slide, però. Va bene. E poi, ok, ci vogliono delle chiavi secondarie. Perché, per esempio, nel caso degli alunni e le classi, no? Che cosa succede? Per ogni riga dell'alunno, avrò una chiave esterna che indirerà l'ID della classe a cui appartiene. Così funziona. Nel caso 1 a 1, vabbè, la cosa è molto facile. Nel caso N a N, c'è una tabella in mezzo che genera la relazione. Essere iscritto a YouTube, per esempio, no? Dove ID iscritto, ID canale, poi bisogna trovare una corrispondenza, no? E la tabella le collega. Diciamo, la cosa funziona così. Poi, adesso sì, la cosa può sembrare un po' così, diciamo, perché adesso sto parlando solo della teoria, però, nella prossima lezione sicuramente vedremo magari delle cose pratiche. Come funziona SQL? SQL, beh, structure query language è un linguaggio dichiarativo, non è un linguaggio imperativo, non è un linguaggio, cioè non ci fa in applicazione, serve solo per interrogare i database. Possiamo selezionare i dati di un database, inserire, modificare, eccetera, eccetera. Anche ho pensato a base sintassi di SQL, ma questa è la select, poi ci sono un sacco di altri tipi di query. Allora, SQL è fatto in query, no? Query language, no? E, boh, queste query sono interrogazione database. Questa qua è per esempio per selezionare, è quella base, no? I suoi comandi base. Seleziona una certa colonna, oppure tutte, from, certa tabella, where, riga, condizione. Ok, poi, il DAO. Il DAO sarebbe data access object. Qui cosa abbiamo a che fare? Abbiamo a che fare con un pattern architetturale di Java. Questo pattern serve praticamente a noi. Già nel corso di base ho parlato dell'MVC, no? Anche quello è un pattern architetturale. Permette di dividere l'applicazione in compiti, no? Per esempio, una dove ci metto le classi, il model, un'altra dove ci metto le viste, la view, l'altra dove collego il model con la view e quindi il controller. Dopodiché, posso aggiungere appunto il DAO, che è un po' la persistence, dove io poi vado a mettere quella parte che si occupa di interrogare il database. E sarà poi, niente, poi c'è tutto il discorso del collegamento al driver e così via. E ci saranno tutte le query e così via, che poi vedremo, diciamo, nelle prossime lezioni. Driver. Allora, questo serve appunto per collegare sul database. Prima c'è questo JDBC o OBC Bridge, che poi si collega ODBC in driver. In MySQL user è molto in driver, però in realtà sto driver non è altro che un file jar. Cioè voi andate poi su internet, vi scaricate il jar e poi lo mettete nel progetto. Ok, praticamente finisce qua il discorso. Sostanzialmente. Queste secondo me sono le basi essenziali. Poi alcune cose probabilmente si capiranno meglio dalla prossima lezione. Perché dalla prossima lezione l'idea sarebbe spiegare come connettere concretamente Java con per esempio, vabbè, MySQL. Noi useremo principalmente MySQL. Poi non so se deciderò di fare altre cose. usare altri database, si può vedere. Tanto alla fine c'è più o meno tutto uguale. Nel senso che poi alla fine cioè la cosa importante è tipo il driver da collegare e la parte della connessione. Poi il resto capite che più o meno SQL è quello e così via, capite? Cambiano alcune cose perché se usi MySQL certi comandi di SQL sono un po' diversi da altri. Però in realtà non ci sono così differenze enormi. E dipende. Comunque nella prossima lezione appunto vedremo come collegare un Java con MySQL. Magari se riusciremo appunto cioè creare una tabella poi magari spiegare un po' così qualche comando SQL. Adesso qui ho fatto vedere per esempio questo, no? Ma questo è solo uno poi c'è l'insert l'update set per cosa c'è? Il delete, no? Per dire. Perché l'obiettivo sarà appunto costruire un intero CRUD. Ok, quindi questo è il discorso. Bene se ti è piaciuto questo video metti Mi Piace se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti perché ci saranno altri video come questo. Sicuramente questo è un tema abbastanza interessante e spero che questo corso di Java diciamo andrà avanti. Diciamo questo qua poi penso verrà integrato col corso di base per creare un corso completo come faccio di solito. E metterò vari link in descrizione pagina Facebook blog e timbre e tutto il resto canale Telegram così via va che capi interesse dove ci sono tutti gli aggiornamenti. e per il resto ci vediamo un prossimo video video. Ciao!